ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi indovinate un po e l'avete visto dal titolo di questo video dall'immagine copertina parleremo di un altro incisore laser quindi se avete perso il video vuol dire che vi interessa questo argomento recentemente qualcuno mi ha detto io non voglio vedere più video sugli incisori laser però hai cliccato perché allora andiamo avanti questo è il wiz maker l1 dal 36 watt un incisore laser che funziona bene ma funziona bene anche perché è preciso identico e la stessa dello stesso prodotto dell'injwood che già vi ho fatto vedere ma questo è più potente e cambia colorazione in j wood che proviene da tomstack quindi azienda leader in questo settore una garanzia un incisore laser diverso dagli altri perché avendo 36 watt a differenza degli incisori laser di pari potenza un punto di incisione molto piccolo quindi una elevata precisione una facilità di taglio che ci permette di ottenere dei bellissimi risultati che adesso vi farò vedere in grado di incidere su diversi materiali quindi metallo legno bacchilite insomma cambia inquadratura e guardiamolo ma ricordatevi andare a guardare il link giù nel primo commento alla descrizione perché potreste trovare anche un colcino di sconto e risparmiare qualcosina il prezzo non ve lo dico adesso lo trovate giù perché i prezzi cambiano nel tempo quindi potrei dirvi un prezzo che poi è differente da quello che troverete adesso però osserviamolo partiamo come sempre con una ripresa panoramica quindi guardiamo l'incisore laser in tutta la sua bellezza in questo caso è davvero il caso di parlare di bellezza perché è una colorazione molto interessante questa finitura così satinata un colore molto molto bello che lo rende particolare questo modulo già lo conoscete come vedete identico a quello dell'enjoywood ma così come tutta la struttura abbiamo quindi questi profili ac robusti resistenti con delle ruote gommate che permettono i movimenti i vari motori ben nascosti quindi poco visibili che non rovinano l'estetica della struttura e lo stesso per quanto riguarda il cablaggio questo che vedete che sia il cablaggio per l'alimentazione del modulo che il tubo per l'air assist air assist che però non viene dato in dotazione quindi non troverete il compressore pare tutto predisposto sulla parte bassa del modulo abbiamo il solito vetrino che dovrebbe filtrare raggi donosi e laser comunque tutta la struttura girare proteggere vita che ci siano dei riflessi modulo da 36 watt da questa parte troviamo anche l'etichetta non vi farò vedere lo smontaggio per la pulizia della lente tanto altro perché uguale un po in tutti i moduli i movimenti sono comandati da queste cinghie quindi noi troviamo una destra e una a sinistra e sistema di regolazione tramite un paio di viti nella parte posteriore molto molto semplice stessa cosa per quanto riguarda la cinghia dell'asse x invece per quanto riguarda la regolazione degli eccentrici bisogna inserire una chiave inglese che viene dato in l'azione all'interno di questo forellino dove troviamo questo simbolo della chiave inglese quindi possiamo regolare quanto stringere sui profili questo invece il controller quindi troviamo il fungo di emergenza per poter arrestare la macchina io ho lasciato la fascetta ma dovete ricordarvi di rimuoverla altrimenti non riuscirete a premerlo poi abbiamo l'ingresso per l'alimentazione l'ingresso uscita per il cavo usb tastino di accensione un tastino di reset l'ingresso per le micro sd e anche in questo caso troviamo un uscita hdmi per il monitor touchscreen che però non viene dato in notazione ora guardiamo invece quello che sono riuscito ad ottenere positivamente per farvi rendere conto delle prestazioni di questo incisore però prima che io lo dimentichi voglio farvi vedere anche la regolazione della messa a fuoco che va fatta tramite questo spessore in plexiglass trasparente è un rotellone nella parte posteriore che ci contente di alzare ed abbassare il nostro modulo fino a raggiungere l'altezza corretta quindi la distanza che avremo tra il pezzo da incidere o da tagliare e la quella parte bassa del nostro modulo ora spostiamo di nuovo a fine corsa e guardiamo quello che ho ottenuto allora innanzitutto questa volta ho voluto fare tanti material test perché volevo vedere effettivamente questo incisore così potente con questo punto così piccolo fino a dove poteva spingersi allora questo è multistrato di pioppo non fate caso al fatto che sia un po tutto storto ma non avevo regolato le cinghie o meglio ero convinto di averle regolate bene e invece no guardate infatti cosa accade se non regolate tutto per bene viene deformato quindi comunque per quanto riguarda i tagli considerando che sono tutti i tagli eseguiti con un solo passaggio ma con air assist siamo riusciti a tagliare ovviamente a 200 mm al secondo già con il 27,8 per cento ma quello che a noi interessa sono le velocità più alte quindi 644 mm al secondo con il 66 per cento abbiamo tagliato ma come vedete non ho staccato i pezzi anche 733 mm al secondo con il 74 per cento siamo riusciti praticamente a tagliare il pezzo è staccato si muove però siccome non si è tolto da solo allora ecco sì dai è tagliato quindi se volete tagliare eventualmente aumentate leggermente la potenza diminuita di poco la velocità multistrato di pioppo da 4 mm nessun segno di bruciatura quindi lavoro eseguito molto bene andiamo ancora avanti vi faccio vedere il risultato sul multistrato di betulla questo è molto più difficile da lavorare anche se sono tre millimetri contro i quattro però il multistrato di betulla è un materiale diverso anche in questo caso non ho staccato i pezzi che col pendolo in questo modo cadono come vedete non sto colpendo direttamente sul pezzo tagliato ma il punto di incisione laser così sottile che effettivamente anche se tagliato rimane nella sua sede questo è il vantaggio di avere un incisore laser con un punto così piccolo riesce a eseguire dei tagli e il pezzo rimane praticamente appoggiato non si stacca semplicemente perché incastrato ma il taglio viene eseguito perfettamente e qua abbiamo un'ottima precisione perché avevo regolato le cinghie quindi tutto perfetto riesce a tagliare già a 911 mm al secondo stiamo parlando di velocità altissima questo per quanto riguarda i tagli invece per quanto riguarda i riempimenti allora in questo caso forse ho esagerato con la potenza guardate 2000 mm al minuto quasi ho usato il 100 per cento per vedere quanto riuscisse a riempire ha scavato con tutte le velocità in modo graduale come vedete ma qua addirittura ha bucato ha bruciato letteralmente il legno quindi un incisore molto potente che va gestito per bene e in base a questi parametri poi ho eseguito anche queste incisioni è una foto scelta appositamente casualmente io e mia figlia avevamo l'abbigliamento di colore nero sia sui pantaloni che sulla maglietta e quindi ho deciso di stampare di incidere questa foto per vedere come si comportasse essendo contro luce quindi con il cielo molto luminoso con tutto lo sfondo bianco e vedere come riuscisse a gestire le ombreggiature ragazzi per me nulla da ridire la foto è leggermente sotto esposta come vedete i visi sono in ombra ma è riuscita a rispettare tutte le ombreggiature sul braccio sulle scarpe flesso della luce sulla punta della scarpa la sfumatura sulla ringhiera l'asfalto questo pezzo di macchina si vede il cerchione con tutti i vari dettagli tutti i vari dettagli della parte in fondo di questo palazzo davvero molto molto dettagliato non rimasto stupito della qualità di incisione perché è un punto molto piccolo quindi riesce a darci queste prestazioni questa invece sulla bachelite in questo caso non è riuscita ad incidere tutte le sfumature però è riuscito a farci distinguere ancora meglio alcune parti guardate il bordino della scarpa alla cucitura del pantalone non ha fatto le ombreggiature del braccio ma la bachelite è difficile da incidere però anche in questo caso molto dettagliato pure qua il cerchione della ruota che era distante però abbiamo perso la sfumatura sulla ringhiera stessa foto stesse impostazioni però risultato differente ma abbiamo anche le foglioline della palma in fondo insomma un incisore che riesce a darci questi risultati per me è un incisore di buona qualità gestione delle ombre gestione dei colori davvero eccezionale ovviamente per ognuno di questi lavori vi metterò le riprese dettagliate e anche qualche timelapse grazie a tutti guardiamo anche la prova sul cartoncino che sembra un lavoro semplice invece il cartoncino è difficilissimo da lavorare guardate innanzitutto la gradualità quanto sia preciso all'aumentare della velocità e della potenza e quindi si crea questa scala perfetta questo mi è piaciuto mi ha permesso di capire quali impostazioni e dare per ottenere questi risultati e ho realizzato questo quadretto questo è naturale quindi solo cartoncino tra l'altro cartoncino rigido non è facilissimo da tagliare quindi guardiamo il risultato semplicemente il cartoncino incollato su un pezzo di multistrato che ho tagliato in base ai parametri che ottenuto da questo material test quindi stesso multistrato di pioppo da 4 mm e qua ho ottenuto questo risultato con l'effetto naturale qua invece ho voluto fare la stessa prova dipingendo di nero il pannellino e poi incollando il cartoncino la stessa prova dipingendo di nero il pannellino e poi incollando il cartoncino un bel risultato ma guardiamo qualche altro lavoro per esempio questo e pelle ho inciso sulla pelle il logo jeep e da questa parte invece sul legno pure in questo caso ottimo risultato sia per quanto riguarda l'incisione che per quanto riguarda il taglio nella parte posteriore è identico ma da quest'altra parte ho voluto fare la scritta semplicemente con la linea quindi bellissimo risultato anche sulla pelle risultato ha successiva Grazie a tutti. Poi ho fatto la prova anche su spessore elevati, per esempio questo è un centimetro di abete proveniente da una perlina, ormai una prova che faccio molto frequentemente, l'ha tagliato con due soli passaggi sempre 90%, non ricordo la velocità ma metterò tutti i parametri in sovraimpressione e guardate che pulizia di taglio. Stessa cosa per quanto riguarda il multistrato di betulla da un centimetro, difficilissimo da tagliare, è riuscito a tagliarlo pure questo se ricordo bene con due soli passaggi, ma anche per questo metteremo le riprese in cui si vede l'esecuzione del taglio. Ora passiamo invece a questa, quindi l'incisione sul metallo. Guardate che bella incisione di questo tribale, nerissimo, incisione vera e propria, allora ho passato alcol, l'ho lavato, si vede che è pulito, è stato strofinato e l'incisione non si rimuove assolutamente. Ovviamente in base a come lo guardate cambia tonalità, però vedete un'incisione nerissima, fatta davvero molto bene, mi è piaciuta tantissimo, quindi un'incisione netta, fatta tra l'altro velocemente, quindi anche per questo metterò tutti i parametri in sovraimpressione, ma guardate che bel risultato, immagine nettissima. Poi ho voluto fare la prova anche sul ferro, questa è una lastra di ferro molto robusta, verniciata, eppure in questo caso ho fatto solo un material testo, come vedete pure qua ha rispettato benissimo la gradazione, con il 10% praticamente quasi non è inciso. Queste differenze che vedete sulla prima riga sono semplicemente dovute al fatto che ho attivato e disattivato l'air assist per vedere la differenza di risultato e anche qua si vede, se non si utilizza l'air assist pure su questo materiale si ha della differenza, ho voluto fare i due tipi di riempimento, mi piace come risultato, è davvero molto molto bello, quindi anche sul ferro, sia verniciato che non verniciato, riesce a lavorare benissimo. Come sempre diamo un'occhiata anche al sito del venditore, quindi vediamo le varie immagini, le diverse opzioni di acquisto, quindi in questo caso vedete quello di colore grigio, ma è possibile comprarlo anche della colorazione che vi ho appena fatto vedere. Qua abbiamo le caratteristiche tecniche, quindi 36 watt, il punto di incisione laser davvero piccolo, molto piccolo, mai visto un punto così piccolo in queste potenze, quindi 0,06 x 0,08, la velocità di spostamento è di 24.000 mm al minuto al massimo, e l'area di lavoro invece 400 x 400 con una precisione di 0,01 mm, ovviamente è compatibile sia con light bar che con laser GRBL, è possibile utilizzare diversi accessori, per esempio i rotary eccetera, poi abbiamo diversi formati che sono praticamente sempre gli stessi, e i materiali che si possono lavorare, quindi legno, carta, pelle eccetera eccetera. Come tutti gli incisori laser a diodo, nulla di diverso, però poi ovviamente ogni incisore in base alla propria potenza, appunto l'incisione laser e a tanto altro, ci do la possibilità di sfruttarlo meglio o peggio in base al tipo di materiale che vogliamo utilizzare. Questa è un'immagine che rappresenta la parte interna del nostro modulo, quindi abbiamo 6 moduli da 6 watt, 36 watt in totale, ma in uscita non avremo mai questa potenza, qualcosina si perde, diciamo solitamente sono attorno ai 30-33 watt, che è già comunque un'ottima potenza. Andiamo ancora avanti, più giù vediamo qualche altra informazione, e quest'altra immagine che fa vedere per esempio la differenza di spessore della linea, tra gli altri incisori laser di pari potenza che solitamente sono attorno a 0,1 o 0,12, e questa che è 0,06 x 0,08, la differenza effettivamente c'è e si vede. E poi sul metallo si possono ottenere anche delle tonalità di colore, come vi ho fatto vedere anche con altre recensioni, in base alla potenza, alla velocità e all'interlinea. Però è una prova un pochettino lunga, che ho preferito non fare questa volta, ma un incisore di questa potenza riesce senza nessun problema. Ovviamente l'incisore gode anche di tante certificazioni, quindi sul sito troverete tutte le varie informazioni al riguardo, e sulla parte bassa del sito troviamo le varie recensioni e i commenti degli acquirenti. Quindi probabilmente molti di voi si chiederanno, ma perché un incisore laser così potente con un punto così piccolo? Perché con altri incisori laser che abbiano un punto più elevato non riuscirete mai e poi mai ad avere questa precisione. Questa è la precisione che si ottiene con un incisore laser meno potente, da 5 a 10 watt, ma in questo caso l'avrete su 36 watt con una velocità molto più elevata. Per fare questa foto bisogna impiegare 5 o 6 volte in più di tempo rispetto a quello che si impiega con questo incisore. Lo prima invece se volete ottenere questo risultato con qualunque incisore riuscite ad ottenerlo, il punto laser in questo caso non ha importanza. Nel caso in cui vogliate fare invece un portachievi come questo, ragazzi una linea così fine si può ottenere solo con un incisore laser che abbia un punto così fine. Invece per il riempimento non avreste problemi con incisori laser che non hanno queste caratteristiche. Per me è ideale, anche se per spessori molto elevati, dato che il punto è molto piccolo, la messa a fuoco si perde facilmente. E quindi se volete tagliare spessori elevati allora dovrete fare molti più passaggi, la parte finale allora si può bruciacchiare. Ma se volete tagliare fino a 10 mm riuscite a farlo senza problemi, con una buona velocità e con dei risultati apprezzabilissimi, davvero interessanti, perché non abbiamo per niente bruciatura e abbiamo un taglio che viene seguito velocemente in modo pulito. Quindi valutate se è un incisore laser che può fare per voi, io vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero di associarlo anche al codice di sconto, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione lì su e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!